Sicuramente è stata come sempre un'elezione con qualche piccolo colpo di scena, ma auguro ai colleghi neoletti del Biro, visto che sono stato membro per quasi cinque anni, di poter svolgere bene e proficuamente il loro lavoro. È importante che l'Italia abbia recuperato anche un secondo vicepresidente, quindi torniamo ad avere due vicepresidenti italiani di due famiglie politiche diverse. Questo sarà anche qui ovviamente un attestato importante di stima per il nostro paese, ci darà anche un po' più di margine, di manovra, di peso specifico all'interno dell'ufficio di presidenza e speriamo che possano contribuire ad avere un Parlamento più interconnesso, più sostenibile, più digitale e anche che possa efficientare al meglio la gestione del bilancio di qui ai prossimi anni.